eccoci in cima al pizzo del diavolo di tenda 2900 metri cosa ne pensi Ivan cosa ne pensi tempo al tempo ecco i nostri eroi Frank grande Frank 2900 metri partenza dal rifugio Calvigio là in fun 2.40 ma fanno il gol dai bravi bravi tutti ragazzi posto bellissimo disgrazia Basile e porca puttana se le lunghe passare in giù della di Ocana che deve andare giù in fondo di lava diavolo diavolino spettacolo